Ciao a tutti, oggi abbiamo un raro modello di Achille Gaggia a leva, un modello molto particolare, difficile da trovare in buone condizioni come questo che vedete qui ora. Ora ve lo faccio vedere, la macchina è intanto già accesa per farvi vedere il funzionamento. La macchina si compone di due taniche, la tanica superiore che si può anche rimuovere e la tanica dell'acqua che servirà per il gruppo per fare il caffè. La tanica sottostante serve invece per fare il vapore. Abbiamo le due luci laterali, quella rossa indica che la macchina è accesa, quella verde la macchina ha raggiunto la temperatura, giusta, per essere pronta a fare il caffè. Ora facciamo, la macchina ha raggiunto la temperatura, facciamo un esempio di prova nel caffè. Ecco gli ultimi residui di acqua e questo è un esempio di come si fa. Ora rifacciamolo nuovamente, mano sinistra stavolta, si tira su, si abbassa con decisione la leva e si aspetta l'ultima uscita poi di acqua dal gruppo. Ora vi faccio vedere anche la lancia a vapore. che funziona perfettamente. Il vantaggio della lancia a vapore di questa macchina è che è molto mobile, la potete spostare in varie posizioni, come meglio desiderate. e il braccetto, il braccetto portafiltri, ha all'interno il supporto, il filetto che fa e quando l'andate a battere non esca il filtro.